LUCI PIRANDELLO Ma voi? Voi siete Luigi Pirandello? E' maestro? Voi, un mato visto. Oh. Per di che cosa vi occupate? Insegno letteratura. Noi invece la facciamo. Non ho nessuno scopo e sono felice. Ah no, senza pausa. Non ho nessuno scopo e sono felice. Scopo e sono felice. Ma se scopo è forse te. Tu sei messo a camminare per una strada piena di pericoli. Siamo direttanti professionisti. Usaccio che hai pena. Perché le idee non guagliano. Non riesci a scrivere la tua commedia. Professore, con tutto il rispetto, eh. Voi vi piace. Siete un po' casciuto. Ho capito quello. Per ora noto solo fantasie. Ho in mente una stranezza. E' diventata quasi un'ossessione. Maestro, innanzitutto ci scusi per il disturbo. Da fronte c'ha colleghi. Ma che colleghi? Quintana del pronounced è la mia voce. Ho i tuoi sprogli. Ma che qualsiasi non sia.